Qui, questo pomeriggio, quest'area sarà usufruibile, giusto? Sarà usufruibile da questo primo pomeriggio, ringrazio la ditta ai tecnici degli uffici ovviamente che hanno provveduto in collaborazione con l'associazione Vivi San Giacomo a dare un po' più di dignità e di decoro anche a quest'area che è assolutamente ben vissuta e molto frequentata. Sono piccoli interventi che ovviamente si inseriscono in un quadro più ampio, sia del verde, perché voi sapete che io continuo a dire di voler porre la massima attenzione sul verde che si inseriscono in un progetto più ampio di riqualificazione di diverse aree gioco dei bimbi che verranno realizzate e installate con i primi mesi del 2024. Abbiamo fatto piccoli interventi, una manutenzione costante di queste che sono delle piccole aiuole ma che evidentemente magari anche con la collaborazione proprio degli esercenti del luogo si riuscirà così a far adottare e quindi a renderle così costantemente un po' manutenute anche da chi poi ha un bar, un esercizio commerciale, quindi se c'è questa disponibilità io sono già contento in partenza e soprattutto abbiamo fatto alcuni interventi, vedevo anche stamattina siete andati a documentare in via dei Bonomo per ridare decoro perché sono convinto che con il decoro di una zona ci sarà poi anche una maggiore presa in cura da parte delle persone che la frequentano o perlomeno questo è l'auspicio.